bene vediamo quest'altro problema sempre della selezione di istituto dei giochi della chimica svolta qualche giorno fa allora questo è un problema estremamente semplice di diluizione e vorrei risolverlo con un metodo diciamo che è quello che suppongo utilizzino tutte le persone che lavorano in modo pratico in laboratorio cioè la prima cosa che uno si domanda o va a vedere e qual è il rapporto di diluizione cioè quante volte devo diluire se io devo passare una soluzione che 2 molare in nh ad una che è 0,2 morale significa che devo diluire di 10 volte e siccome io parto da un volume di 100 millilitri il volume finale che dovrò raggiungere sarà di 10 volte cioè di 1000 millilitri quindi se ne ho 100 approssimativamente ne aggiungerò altri 900 anche se non misurerò il volume di acqua che vado ad aggiungere ma quello finale ottenuto perché ho dei matracci tarati da un litro mentre non ho dei matracci tarati o degli strumenti per misurare facilmente 900 millilitri risposta a